BCC di Marina di Ginosa, dal 1966, custodi dei valori del territorio. Vieni a trovarci nella sede più vicina a te, BCC di Marina di Ginosa, la banca che ti ascolta. Nasce dall'esigenza di valorizzare il territorio. Sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sala giunta del comune di Ginosa i dettagli del progetto di marketing turistico territoriale avviato dal comune di Ginosa in collaborazione con Tourismore, Momentary Labs e Visit Ginosa e Marina, dal titolo Wonder Ginosa. Presenti il sindaco di Ginosa, Vito Parisi, l'assessore alla cultura, Emiliana Bitetti, Giacinto Marchionna per Tourismore e Isabella Bello per Visit Ginosa e Marina. Wonder Ginosa è un progetto le cui parole chiave sono una ginosa, destinazione e benessere, in cui rigenerarsi, in cui ricaricarsi, in cui ritrovare l'energia che abbiamo perso durante gli ultimi mesi, quindi negli ultimi due anni. Altre parole chiave sono accoglienza in sicurezza, accoglienza di qualità. Questo sicuramente è tutto quello che il progetto Wonder Ginosa racchiude. Wonder Ginosa è anche una piattaforma di contenuti, quindi attraverso il sito internet wonderginosa.it, attraverso anche i maggiori social network come Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, diventano appunto contenuti di quello che sono le bellezze del territorio. Quindi parliamo di Marina di Ginosa come escursioni, come parte naturalistica e poi Ginosa come centro storico e habitat rupestre. Vi parlo anche del, sono la creatrice del logo di Wonder Ginosa e Marina, appunto viene identificato con i monumenti che sono identitari proprio del territorio Torremattone, Marina di Ginosa e Castello Normanno come Ginosa. Oggi lanciamo ufficialmente il progetto Wonder Ginosa e Marina di Ginosa, meravigliati con noi, ovvero un progetto di promozione e valorizzazione turistica per il nostro territorio che aiuta a promuovere non solo le nostre bellezze e tutto ciò che si può visitare, ma anche tutto ciò che si può fare, quindi puntando al turismo esperienziale e al turismo in sicurezza. È un progetto che coinvolge dei professionisti nel settore del turismo e della valorizzazione e della promozione turistica e gli stessi operatori presenti sul territorio. Una iniziativa è un progetto molto importante da un punto di vista di strategia turistica ed è quindi economica. Il progetto Wonder Ginosa è un progetto che tiene assieme delle realtà che puntano alla formazione e l'aggregazione per quanto riguarda il turismo e la promozione del territorio attraverso una comunicazione innovativa. È un'iniziativa che abbiamo finanziato interamente con risorse comunali, siamo tra i pochi comuni ad aver spinto moltissimo anche con un investimento importante e ci fa piacere aver avuto il patrocino da parte di Puglia, promozione e della Regione Puglia. Proprio perché abbiamo una realtà turistica che deve puntare all'aggregazione, a una struttura che deve essere creata attraverso le informazioni che ci devono scambiare tra il terzo settore, gli operatori turistici e l'amministrazione comunale.